L'ex ministro della giustizia Clemente Mastella ha giunto in città per presentare la lista Udeura a sostegno di Michele Marone e per la sua candidatura europea e con Forza Italia. C'è bisogno, ha detto, di fare molto e molto per questa città utilizzando al meglio risorse locali e opportunità che arrivino dal livello europeo e nazionale. E sull'euro Berlusconi evidenzia Mastella non dice usciamo dall'euro ma dice ricontrattiamola con la banca centrale europea batti moneta. Io sto all'interno di Forza Italia ma sono sempre un moderato, un uomo di centro. Matteo Renzi e Beppe Grillo. Matteo Renzi ha detto l'ex ministro a una velocità incredibile ma bisogna ancora vedere l'esito di questa corsa. Grillo, chi è comico rimane comico, manifesta questo intendimento di satire a mettere in discussione tutto e tutti. A 64 anni da questa mattina dopo aver minacciato di togliersi la vita chiamando al telefono la moglie è scomparso nel nulla. L'uomo non poteva avvicinarsi alla moglie che vive a rotello perché su di lui pende un provvedimento restrittivo a seguito di una decisione del giudice dopo una denuncia per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 64enne sarebbe infatti scomparso dall'agriturismo in cui alloggia Larino. Lo stanno cercando ovunque sia i carabinieri anche con le unità cinofile che i vigili del fuoco e la protezione civile.